Questo evento rappresenta la sintesi di questo principio, cioè di come la cura del paziente e della persona siano una realtà che deve essere affrontata da tutte le competenze possibili. Questo evento rappresenta un'occasione irripetibile di fondere, di riunire insieme competenze molto diverse e di metterle allo stesso tavolo a confrontarsi su un tema così importante.